Svendite e maxi sconti al via dal giorno feriale precedente l'Epifania. In Abruzzo i saldi invernali inizieranno il 5 gennaio e avranno la durata massima di 60 giorni, senza alcun limite alle promozioni né nei giorni precedenti né in quelli successivi. Secondo le stime di ConfCommercio, ogni persona spenderà circa 133 euro, con una crescita dei saldi di oltre il 10%, ma la Confederazione dei Commercianti mette in guardia dai rischi di truffe e negozianti furbetti, con 5 consigli per i consumatori che si preparano ai saldi, dai cambi della merce acquistata alla prova degli abiti che sono a descrizione del negoziante, mentre per i pagamenti devono essere accettate le carte di credito e vanno favoriti i pagamenti cashless. I capi in saldo devono avere carattere stagionale o di moda e il negoziante è obbligato a indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. Anche l'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, cui aderisce Adoc Abruzzo, lancia una serie di iniziative in vista dei saldi, nella convinzione che gli sconti possano alleggerire la pressione dettata dalla crisi economica, dalla diffusione di un decalogo per l'acquisto consapevole, a una giornata prevista per il 14 gennaio, in cui l'Associazione sarà presente nei maggiori centri commerciali delle quattro province abruzzesi, con punti informativi a sostegno dei consumatori. Nell'occasione, nelle altre iniziative organizzate da Adoc, verrà divulgato un volantino con un decalogo antitruffa, che si articola in dieci punti e che stila una serie di consigli per effettuare acquisti sicuri, per evitare di cadere nelle trappole degli sconti eccessivi o della proposta di merce avanzo di magazzino a prezzi stracciati. C'è da registrare comunque che da qualche anno i saldi stagionali hanno perso il loro fascino a causa dell'e-commerce dei singoli marchi, soprattutto stranieri, che anticipano le promozioni a subito prima di Natale o iniziative come il Black Friday di novembre, occasione importante per la tecnologia ma ormai anche per l'abbigliamento, che è diventato il momento principale per gli acquisti dei regali natalizi.